Cresciuta a Brixton, dove negli anni 80 ci furono delle importanti rivolte contro i metodi repressivi della polizia. Mi sono chiesta se ti hanno ricordato quelle accadute di recente negli Stati Uniti. Cosa ricordi tu di quel periodo, di quando eri ragazzina? Di solito queste cose si leggono sui giornali, si guardano in televisione, ma io ci sono cresciuta in mezzo, sono cresciuta in mezzo a tensioni e rivolte, erano la mia normalità. Per questo sono politicamente impegnata e la mia band ha fatto molte canzoni di impegno politico. Quello che sta succedendo, ecco, stiamo assistendo a un'ascesa della destra con Trump in America e altri leader in tutto il mondo, Brasile, Germania, Francia e anche la Polonia. C'è un'ascesa della destra e quello che sta succedendo ora, beh, conosciamo tutti gli errori della storia e ora le persone dicono no, non possiamo sopportarlo, non possiamo sopportare il fascismo, razzismo, omofobia, sessismo. È il momento di prendere posizione e di opporsi a tutto questo. Ero a New York all'inizio del movimento Black Lives Matter, un movimento che è nato a causa della brutalità della polizia nei confronti delle persone di colore, ma non è solo una questione dell'America, è una questione che esiste dappertutto, ci sono così tanti casi. È il comportamento della polizia, il loro atteggiamento nei confronti delle persone di colore. e alla fine, soprattutto in questo periodo, tanti sono a casa, non lavorano, vanno sui social media, si informano di più e le persone si stanno rendendo conto di tutto questo e prendono posizione e dicono bisogna fermarli. Ho visto recentemente un film italiano davvero incredibile di un ragazzo picchiato dalla polizia e infine questo ragazzo è morto, come si chiamava? Stefano Cucchi. Esattamente, sì. Ecco, quindi non è solo una questione dell'Inghilterra, intendo, è proprio una mentalità, la mentalità di chi va in polizia, è la mentalità della polizia e dobbiamo porre fine a tutto questo. Dobbiamo combattere contro questo, dobbiamo difendere i diritti delle persone, dobbiamo manifestare per questo. Beh, non la mentalità di tutta, tutta la polizia, per fortuna, schiene.